ciao non stare attento che non salti via il portapacchi si rischia anche di forare se hai la camera d'aria qua perché puoi subire grossi impatti sulle rocce e battere sul cerchio occhio all'erba è scivolosissima approccia ed ora superiamo la sbarra grazie Alla prossima Alla prossima Alla prossima Oltre ad avere le pastiglie metalliche i freni sono anche bagnati L'albero Sono arrivato lungo Alla prossima Cacchio Ok 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 Un'altra Ieri non c'era Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima C'è tanta vegetazione Non si vede fuori dalla curva Piano Alla prossima Alla prossima Andiamo giù per la strada normale Perché devo arrivare velocemente a casa Alla prossima Alla prossima